Buongiorno, sono Fulio Guerrieri, sono responsabile commerciale della Master e ci troviamo a Milionico per conseguire l'incontro che abbiamo avuto con grande successo a Piacenza e parlare di porte blindate. Spero di incontrare anche a Milionico le rivendite del Sud e avere lo stesso successo che abbiamo riscontrato a Piacenza.